buongiorno di nuovo di nuovo buongiorno di nuovo di nuovo lo sappiamo della torta dell'abbè dell'abbè Maria della grazia la grazia come si chiama la 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 perché ancora 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 mi sa dire come si chiama il suo nome il mio nome quella volta il mio nome era andato abbiamo girato abbiamo guidato guidato atto e poi sa dire che gioco oggi ancora no perché io almeno penso di essere tu cosa una meta pera nera non serve la data di oggi che io l'ho detto tante volte non era una pera pera nera